Benvenuti al meteo di Telemuova, ecco le previsioni per domani lunedì 20 novembre. Nebbia sulle zone di pianura del nord, rare piogge su un messinese tirrenico, altrove bel tempo. In campagna il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Salvo locali addensamenti sui monti dell'entroterra.